ciao ciao ragazzi questo è il nuovo live il live world tour del 2010 è la prima copia e la stavo guardando mi sembra molto bella io spero di aver messo dentro tutta l'energia giusta quella che poi ho trovato a milano al forum dove ho registrato ma a roma palermo in tutte le altre città d'italia del mondo mi sembra di aver fatto un lavoro giusto esce il 30 di novembre spero che vi piaccia sono qui a diciamo a supervisionare le prime coppie ma sto anche lavorando ad altri progetti ci rivedremo qua su questo canale ciao a presto